Sono momenti belli, c'è silenzio, è il ritmo d'un polmone, se guardi dei cristalli, quella gente che marcia al suo lavoro, dritta, interessata, necessaria, che ha tanto fiato, caldo nella bocca quando dice buongiorno. È questa che decide, e son dei loro, non c'è altro da dire. E questo cielo contemporaneo, in alto, tira sulla schiena, in alto, ma non tanto, questo cielo colore di lamiera sulla piazza a Sesto, a Cinisello, alla Bovisa, sopra tutti i tranvieri, ai capolinea, non prolunga all'infinito, i fianchi, le guglie, i grattacieli, i capannoni pirelli coperti di lamiera. È nostro questo cielo d'acciaio che non finge Eden e non concede smarrimenti. È nostro ed è morale il cielo che non promette scampo dalla terra, proprio perché sulla terra non c'è scampo da noi nella vita. Questa era una bella poesia di Elio Pagliarani dal titolo Sono momenti belli, c'è silenzio, tratto dalla raccolta La ragazza Carla del 1960. Elio Pagliarani è stato esponente della neoavanguardia italiana. Insieme ad altri autori e scrittori e poeti come Aldo Palazzeschi, Umberto Eco, Nanni Balestrini, Giorgio Manganelli, questi autori diedero vita al gruppo 63, che si chiama così dalla data in cui si sono riuniti presso un hotel a pochi chilometri da Palermo. Elio Pagliarani ha anche curato l'antologia I Novissimi. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.